Ciao, sono Marcello Peri e volevo dirti perché voterò no al prossimo referendum riguardante il taglio dei parlamentari. La risposta breve è che i parlamentari rappresentano noi, cioè rappresentano la nostra comunità democratica, rappresentano la possibilità dei nostri bisogni di essere discussi e di poter essere considerati davanti a tutti gli altri per prendere decisioni che ci facciano vivere meglio insieme. Quindi oggi facciamo esempio che si elega un parlamentare ogni 100 voti, così per fare un esempio, se domani vengono tagliati se ne eleggerà uno ogni 150, 140, quello che vuoi, questo cosa vuole dire che ci saranno meno persone, quindi meno possibilità di portare i nostri bisogni all'attenzione di tutti gli altri, meno possibilità di comunicare, meno possibilità di immaginare soluzioni, meno possibilità di elaborare sulle proposte, meno possibilità per tutti. Ora, ci sono voci contrarie a questo che dicono che comunque c'è bisogno di più efficienza. Adesso partiamo da quella sulle spese, cioè non vogliamo prenderci in giro parlando delle spese, cioè la razionalizzazione delle spese non si fa a spese della rappresentanza democratica, si fa in mille modi e è facile capire che si possono trovare soluzioni sull'economia in altri modi, non tagliando una quota di parlamentari. L'altro aspetto che viene portato è quello dell'efficienza. Allora su questo c'è un malinteso, cioè la prima cosa da rendere efficiente è proprio la rappresentanza democratica. Noi da quanti anni vediamo liste di eletti che sono sostanzialmente gli stessi che erano presenti prima, oppure coloro che sono stati messi in lista da loro? Cioè, in altri termini, da quanti anni è che la democrazia soffre di una mancanza sostanziale? E perché avviene ciò? Se guardiamo a livello tecnico, il primo motivo per cui avviene ciò è lo sbarramento. Cioè, se c'è un'istanza, un bisogno popolare che potrebbe avere un eletto, potrebbe coagulare un certo numero di persone intorno a una lista nuova, questo non è possibile oggi come oggi. È necessario accordarsi con le liste, i partiti già presenti, quindi ottenere forse un posticino in una lista da qualche parte e quindi, diciamo, c'è una trasmissione del potere da parte di chi c'è già che influenza fortemente anche alla stessa elezione, perché non è possibile per dei cittadini organizzarsi e eleggere una persona che verrebbe votata, ma i cui voti non supererebbero lo sbarramento, che oggi mi pare essere al 4%. Quindi diventa necessario sempre scendere a compromessi non in Parlamento, ma prima delle elezioni, per entrare in una delle grandi coalizioni. Questo è il problema della democrazia, secondo me. Ancora prima del problema del maggioritario proporzionale, il problema è che non ci deve essere uno sbarramento. Dopodiché, quando hai tolto uno sbarramento, ti renderai conto che un collegio di, non so, 100.000 persone è già sufficientemente grande per dire che sia valido, non è che devi farne uno da 300.000 persone, non so da adesso i conti esatti, ma comunque avere più parlamentari significa riuscire poi a portare più bisogni, più interessi, più idee, più soluzioni anche in un'assemblea che deve funzionare. E magari anche più persone che hanno interesse a farla funzionare. Questo è l'altro discorso. Andiamo nella direzione opposta, se vogliamo che le cose vadano bene. Non andiamo nella direzione del taglio dei parlamentari, ma nella direzione del ricambio dei parlamentari, se così vogliamo dire. Questo è il mio discorso. Grazie.